Un'interrogazione per chiedere chiarimenti in merito alla questione ospedale è stata depositata dalla consigliera Maria Cristina Marroni che porta l'attenzione sul riferimento a Villa Mosca nelle linee programmatiche del sindaco e su cosa ne sarà dei soldi spesi per lo studio della ASL 200.000 euro sul sito di Piano Daccio. La mia posizione sull'ospedale è stata sempre molto chiara, sono stato il candidato alle scorse elezioni amministrative e più sicuro sulla posizione da prendere, Villa Mosca senza se e senza ma e su quel punto ho fatto la mia campagna elettorale. Mi sembra oggi di assistere quasi a una commedia e sembra quasi che l'ospedale sia diventata una barzelletta l'argomento ospedale tra chi si rimbrotta un argomento e chi risponde altro con conferenze stampa come quella di stamattina in cui addirittura si afferma che le linee programmatiche poiché vengono approvate in consiglio comunale sarebbero più forti rispetto alla delibera precedente che è un'assurdità e il sindaco che è laureato in legge o ha dimenticato la legge oppuremente sapendo di mentire. Allora è semplice la cosa da fare, se il sindaco vuole l'ubicazione a Villa Mosca scrive due righe di nuova delibera che superi quella precedente determinando nella delibera nuova l'unica ubicazione possibile come quella di Villa Mosca senza se e senza ma. Tutto il resto sono chiacchiere che stanno diventando anche stucchevoli. Lei tra l'altro dice c'è stato uno studio da parte dell'Asla, sono stati spesi dei soldi da parte dell'Asla quindi cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto, una richiesta di risarcimento? Mi chiedo anche questo, visto che nella delibera precedente c'erano diverse ubicazioni possibili l'Asla, tra quelle possibili perché avevano parità nella scelta ha determinato uno studio di fattibilità, di progettazione su uno di quei siti cioè Fiumicino dove per quello stesso studio sono stati impiegati circa 200.000 euro mi chiedo da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale chi debba pagare adesso questi 200.000 euro, visto che sono sempre soldi pubblici e sono sempre soldi dei cittadini terramani quindi abbiamo buttato letteralmente al vento 200.000 euro